Sul crollo della palazzina di Barletta del 3 ottobre 2011, in cui morirono 5 donne, non ci sarà una nuova perizia. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Appello di Bari, che hanno rigettato la richiesta avanzata dai difensori degli imputati di ulteriori accertamenti su cause e responsabilità del crollo. Stando all'ipotesi accusatoria e alle perizie eseguite nel processo di primo grado, il crollo fu causato dai lavori di demolizione della palazzina adiacente a quella dove c'era l'opificio, nel quale morirono 4 operaie e la figlia del titolare. Per i reati a vario titolo contestati di disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose plurime, omissione di atti di ufficio e violazione di norme antinfortunistiche, sono imputate ben 14 persone fisiche e una società. In primo grado, nel dicembre 2015, i 15 imputati erano stati condannati appena comprese tra i 5 anni e i 6 mesi di reclusione e i 4 mesi. Nella prossima udienza, del 5 febbraio, la Procura Generale concluderà la discussione e poi la parola passerà alle 50 parti civili, 43 familiari delle vittime, 7 fra enti, associazioni e sindacati, tra i quali Regione Puglia e Comune di Barletta, il quale è anche costituito come responsabile civile.